Manifatturiano che vede crollare la produzione di oltre il 6%, 40.000 disoccupati e presenti nel territorio nel primo trimestre del 2012, di cui il 26% ha un'età compresa tra i 26 e i 34 anni. I numeri parlano chiaro, la crisi sta colpendo duramente l'economia retina, lasciando orizzonti oscuri. In realtà c'è un settore che nonostante tutto si sta salvando, è quello della Green Economy, che vede proprio nella retino tante imprese ai vertici. Dal gruppo Aboca di Sansepolcro, diventato leader mondiale nel settore dell'erboristeria, alla Graziella Green, nata nel 2010 dalla costola di una delle principali aziende ora ferretine per produrre energia pulita, o ancora la Fabbrica del Sole, che continua a mietere successi e riconoscimenti grazie alla mente ecologica dei suoi titolari Emiliano Cecchini e Tommaso Vezzosi. Fino ad arrivare alla Power One, azienda valdarnese, leader mondiale nella produzione degli inverter per impianti fotovoltaici. Proprio da quest'ultima realtà è arrivata in questi giorni una denuncia che ha del paradossale. Vorremmo assumere lavoratori a tempo indeterminato, ma siamo costretti a prendere lavoratori interinali, non possiamo fare diversamente con la legge attuale. A dirlo è Averaldo Farri, consigliere delegato della Power One. L'indice è puntato contro il quinto conto energia, entrato in vigore il 27 agosto. Si tratta del nuovo discusso sistema incentivante che rischia di bloccare il mercato. Anche se restiamo il secondo produttore al mondo di inverter fotovoltaici, ci siamo trovati con un mercato nazionale tagliato di due terzi dalla sera alla mattina e non possiamo farci nulla, denuncia Farri. Anche alla luce di queste parole diventa particolarmente interessante il dibattito in programma per novembre ad Arezzo con il forum RISC che avrà per tema la sanità e l'ambiente, a cui parteciperà il ministro Corrado Clini. Sarà proprio in quella sede che il sistema Arezzo potrà chiedere maggiore tutela per uno dei suoi settori emergenti.